ciao a tutti sono biganet e benvenuti sul mio canale oggi andiamo a riparlare di un tema che va oltre il semplice passaggio al dvb t2 ovvero il nuovo sistema per il digitale terrestre che sta facendo discutere tanto soprattutto tra chi utilizza ancora la televisione tradizionale e chi l'ha abbandonata da tempo per piattaforme di streaming la vera domanda che ci faremo oggi è questa la tv tradizionale ancora futuro nonostante si cerchi di innovarla di fare innovazioni come è per esempio questo dvb t2 prima di iniziare vi invito come sempre a lasciare un like a iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti e se volete aiutarmi condividete queste informazioni utili con le persone che ovviamente conoscete ma la domanda è questa dvb t2 una necessità un cambiamento forzato domanda abbastanza lecita abbiamo già parlato del passaggio al dvb t2 nei miei video precedenti e come questa transazione abbia poi portato a problemi diciamo tecnici ovviamente televisori da aggiornare decorde da comprare e canali che vanno a scomparire tuttavia c'è un dibattito molto ampio che sta emergendo molti si stanno chiedendo se questo cambiamento sia davvero un cambiamento necessario considerando che la tv tradizionale viene sempre meno utilizzata e è sufficiente che andate a leggere commenti dei miei video che ho fatto sul dvb t2 e questo emerge palesemente in italia stiamo assistendo ad un calo drastico nell'uso della televisione lineare le nuove generazioni preferiscono guardare contenuti on demand su piattaforme come netflix prime video disney plus paramount plus e non solo i giovani anche molte persone più adulte iniziano a abituarsi a queste piattaforme e abbandonano un po la tv tradizionale diciamo che questi nuovi sistemi stanno decisamente prendendo molto campo rispetto alla vecchia televisione ma cosa succede a chi rimane fedele appunto alla vecchia televisione diciamo che se facciamo un confronto tra tv tradizionale e servizi esempio di streaming beh le piattaforme on demand offrono sicuramente dei contenuti che possono essere innanzitutto visualizzati in qualsiasi momento senza essere vincolati a orari di programmazione per esempio l'accesso è immediato e nella maggior parte dei casi è privo di pubblicità anche se ultimamente anche in queste piattaforme si inizia a vederne un po questo è un vantaggio enorme per chi ha uno stile di vita frenetico e non vuole aspettare mai l'orario di un telegiornale o di un programma ovvio che dall'altro lato c'è spesso un costo da sostenere per la maggior parte di queste piattaforme di cui abbiamo appena parlato dall'altra parte però la tv lineare conserva un suo fascino particolare specialmente per quanto riguarda esempio le informazioni in tempo reale dei telegiornali gli eventi live come le parti di calcio gli spettacoli che ne so i festival o altri grandi eventi c'è un senso di comunità nel guardare appunto qualcosa in contemporanea con milioni di altre persone eventi che ne so come il festival di sanremo anche se a tanti non piacerà ma ha ottenuto ascolti record oppure la partita della nazionale di calcio che anche se ultimamente non non brilla così tanto ma creano momenti di unione che lo streaming per quanto pratico non può ripiegare in questi appunto rispetto a questi canali in chiaro della tv che prevedono non un costo per il servizio o per il singolo intrattenimento ma ahimè l'altra nota dolente molto discursa è il famoso pagamento del canone rai che in tantissimi non digeriscono e in tantissimi polemizzano perché non hanno la televisione e dicono non devo pagare il canone tema molto dibattuto e non è questa la sede magari se ne potrà parlare nel canale in futuro ma oggi non è questo il tema però era giusto dirlo molti commenti che ho ricevuto nei video precedenti sottolineano una questione importantissima non è solo la tecnologia che sta cambiando ma anche i contenuti offerti dalla televisione che stanno cambiando e questa potrebbe essere una vera ragione per cui stanno diciamo abbandonando proprio questo mezzo la tv tradizionale è spesso criticata per la scarsa qualità di programmi che negli ultimi anni sta offrendo io ve lo sto dicendo perché non sono invenzione mia se andate nei miei video che abbiamo fatto sul dvbt2 beh i commenti sotto parlano chiaro le piattaforme di streaming al contrario offrono serie film e documentari che rispondono ai gusti di nicchie specifiche e il pubblico decide poi cosa guardare quando e dove guardarli tutto questo non significa che la tv tradizionale non possa innovarsi sia chiaro e il passaggio al dvbt2 sta aprendo nuove opportunità per trasmettere contenuti in maggiore definizione in alta definizione e sfruttare al meglio la rete 5g che sta lentamente emergendo in italia tuttavia bisogna fare un passo indietro e capire se la sola qualità dell'immagine beh può salvare un settore abbastanza in difficoltà per quello che si vede oppure se servono anche contenuti nuovi interessanti per far sì che ritorni decisamente in auge e dunque il passaggio al dvbt2 è una tappa intermedia e poi di fatto il futuro della televisione passa da qui oppure no il passaggio al dvbt2 è stato presentato un necessario aggiornamento tecnologico per andare a migliorare quella che è la qualità del segnale e diciamocelo chiaro andare a liberare le frequenze per il 5g e questo è un dato di fatto ma per molti è solo una tappa intermedia forse in futuro vedremo una fusione tra la televisione tradizionale e il mondo dell'internet streaming creando diciamo una sorta di televisione on demand accessibile direttamente tramite un digitale terrestre chissà potrebbe essere una porta da aprire per il futuro ma allora cosa possiamo aspettarci nei prossimi anni? il dvbt2 rappresenta un'opportunità per portare proprio la tv in alta definizione nelle case di tutti ma per alcuni potrebbe essere anche un cambio superfluo? beh il vero problema infatti non è la tecnologia ma la pertinenza della televisione nel mondo moderno abbiamo di fatto bisogno di una tv che trasmetta cose interessanti ci sono piattaforme come lo stesso youtube dove siete a vedere il mio video come netflix che ci permettono di avere contenuti personalizzati a portata di mano e la tv tradizionale diciamo al momento purtroppo non lo fa e dunque la televisione tradizionale è destinata comunque a scomparire nonostante questi aggiornamenti che si sta facendo per migliorare l'alta definizione beh una delle grandi domande che ci poniamo è proprio se se abbia ancora futuro negli ultimi anni molte persone hanno deciso di abbandonare completamente la tv tra commenti che ho ricevuto moltissimi spettatori affermano di non guardare più la televisione ormai da anni e questo mi ha fatto decisamente riflettere alcuni sono passati allo streaming mentre altri non la guardano più proprio pescetta ritenendo che la qualità dei contenuti televisivi sia drasticamente calata un commento che ho citato in un altro mio video che mi ha decisamente colpito diceva più o meno così invece di migliorare la qualità delle immagini pensino a migliorare i programmi che trasmettono questo riflette un malcontento che molti spettatori stanno provando la televisione sembra non essere più in grado di offrire dei contenuti originali e interessanti che di fatto si aspetta il telespettatore dunque il palinzesto televisivo in questo momento è percepito come rigido e poco vario mentre lo streaming permette di scegliere esattamente cosa guardare lo ripeto ovviamente dal canto suo c'è anche un costo e dunque in conclusione il passaggio al DVB-T2 segna sicuramente un miglioramento a livello tecnologico del digitale per la televisione ma non risolve il vero problema anzi lo va a creare perché le polemiche di televisione non funzionano più adeguamenti di vecchi tv acquisti di decoder beh di fatto non risolve ma il vero problema è la rilevanza della televisione tradizionale la domanda fondamentale rimane questa il pubblico ha ancora bisogno della tv lineare o il futuro dell'intrattenimento di fatto sarà completamente dominato negli anni a venire dallo streaming questo dibattito è molto più complesso di quanto non sembri e io sono curioso di sapere cosa voi ne pensate se la tv tradizionale ha per voi ancora un futuro ma ho visto nei commenti che in tanti non l'apprezzano non molto rispetto a prima e si è destinata a diventare un ricordo del passato e dunque scrivetemelo nei commenti un video lungo come sempre ma ho condiviso con voi tutta una serie di pensieri di informazioni che spero a qualcuno abbiano fatto piacere ci si vede alla prossima un abbraccio dai bighe